Vita da bus, vedete, Paola Folli al caffè, la nuca di Jean-Tomin a non so che cosa, Christian Meyer, mail di lavoro, mail di lavoro, si lavora un po' che no, e niente, io documento un po' questa vita da bus, ho fatto vedere le zone, le zone clou, colline per chilometri, mille chilometri di colline, e qui abbiamo Francesco Grieco, l'uomo che ha permesso tutto ciò, che ha messo in fila 13 dati in pochissimi giorni, e quando non sa cosa fare, guida un bus da 20 metri con carretti, così, il tempo libero, ve lo volevo dire, abbiamo Meyer, questa donna che riesce a guidare il bus di 20 metri con carrello per chilometri in retromarcia, non so come fa, ma lo fa, ci stiamo avvicinando alle Ardenne, noi siamo in coda, invece nella seconda guerra mondiale, i tedeschi sono passati alla grande, nessuno avrebbe mai detto che ce l'avrebbero fatta, invece porca miseria ce l'hanno fatta. Questo locale? Stiamo arrivando! Ehi! Ehi! Dai scoda, scoda, scomba! Faccio il freno a mano? Dai, freno a mano, carrello ribaltato! Presto, spostatevi che vi schiacciamo! Dai, 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 siamo gli artisti! Via, 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 via! Ciao, ciao, ciao! Vitt, 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 vitt... Inte da fare. Grazie.